Buongiorno, oggi vi illustriamo le nostre cassaforte da muro della serie Gold, quella in alto e con combinazione elettronica digitale, quella in mezzo con serratura chiave a doppia mappa e la terza con serratura chiave a cilindro. Ora le analizzeremo una per una. La cassaforte da muro con combinazione elettronica digitale Gold Troni è certificata grado S1 secondo la normativa EN 14450. La serratura è certificata UNI EN 1300, funziona con pile presenti nel vano interno del battente. Nel caso si scarichino le pile tramite i contatti per la batteria d'emergenza ricavati direttamente sulla tastiera è possibile aprirla. La cassaforte Gold Troni è disponibile in trecce differenti dimensioni. Passiamo alle casseforti con serratura a chiave a doppia mappa Gold Key. La cassaforte è certificata grado S2 e la serratura è certificata UNI EN 1300. La chiave a doppia mappa con profilo speciale è duplicabile solo con carta di proprietà. Anche la serie di casseforti Gold Key è disponibile in 13 modelli. Infine la cassaforte da muro con serratura a chiave cilindro Eurokey è dotata di un cilindro a profilo europeo anti-bumping a doppio sistema di cifratura. È possibile duplicare la chiave solo con carta di proprietà numerata. Attualmente la cassaforte è disponibile in due sole dimensioni. Grazie dell'attenzione. Saluti Paolo.